ecco entrare Sofia con Jack Russell Nicole con Cocker Spagna l'inglese Matteo con un altro Cocker Spagna l'inglese Arianna con Cocker Andrea con Bassotto Francesca con Jack Russell Linda con Dalmata bianco e nero Alessio con Cocker americano Camilla con Bassotto tedesco a pelo duro Laura con Bassotto tedesco a pelo duro Giulia con Flat Coated Retriever In questa categoria a differenza delle altre che vedremo più tardi sarà sotto giudizio il presentatore non il cane Infatti come vedete il giudice sta camminando attorno ai cani piazzati dai bambini E i bambini presentano il cane di conseguenza vedete ad esempio in questo momento che si sta spostando per mostrare meglio il cane al giudice Mi raccomando facciamo un forte applauso poi a questi bambini che dal primo all'ultimo meritano perché non è facile essere qui dentro ricordatevelo Vedete ecco una cosa che deve imparare il presentatore di cani è proprio quella di imparare anche il linguaggio del giudice In questo momento il giudice ha detto preparatevi alzatevi e fate un giro di ring Adesso il giudice farà una prima scrematura Vedete c'è selezionata la bambina con Jack Russell Con il cocker inglese Bassotto tedesco a pelo raso Flat Coat Retriever E altri due bassotti tedeschi a pelo duro Facciamo un applauso anche per chi esce Non vuol dire che è meno bravo magari oggi è stato un po' più sfortunato Vedete proprio questa gestualità che vi dicevo Il giudice ha detto alzatevi e fate un altro giro Un applauso veramente a questi bambini Per presentare ci vuole affiattamento col proprio cane E questo pizzico di coraggio a mettersi in mostra Al terzo posto la ragazza col flat coat Adesso mi faccio dire Giulia Secondo posto per il bambino col passotto pelo liscio Nome? Andrea Andrea E in questo momento vince la bambina col Jack Russell Nome? Nome? Sofia Un grazie a tutti All'uscita troverete un piccolo omaggio Un regalino pensierino per voi Per la vostra bravura Perché ricordiamoci sempre che l'importante è partecipare Provarci Per la vostra bravura 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 Grazie a tutti.